un'ovazione per quest'uomo che entra con il bicchiere d'acqua Giorgio Montanini, forza! L'istruttore di nuoto David Asterhoff in Baywatch, l'avete riconosciuto lui? è proprio un istruttore di nuoto, ha proprio il fisico l'istruttore di nuoto avete letto allarme prima? era il suo infisema benvenuti, ho tagliato i capelli perché c'avevi i pitocchi